Benvenuti in un nuovo video di League of Legends e siccome dovrebbe essere finita la season 3, 2, 3, 3 e mi è arrivato questo ritratto, mi fa pensare più alla season 1 che alla season 3, vabbè e mi è arrivato questo contornino, questa correcetta, però a me la domanda che mi sono scopertato è, a World, dove sta? Aspetti per i lumi? E io aspetta aspetta però non mica lo trovo, vabbè siccome sono argento 3 e se facessi una road to gold, tanto le perderò tutte quante, fidatevi di me che le perderò tutte quante, però vabbè voglio provarci, allora, se si è sentito un rumore strano tranquillo, mi stavo solo grattugiando la gola, con la grattugio, con la carrucola, che sto dicendo? vabbè, non so se aspettare tutto il tempo che ci mette 47 secondi oppure la partita iniziata, ah ok, già trovata, meno male che la partita c'è, messaggi subliminali, incommendo proprio vai, c'è, varrò a cliccare, vai, vai, main everywhere, puòstanci andare ovunque, non ho problemi, Morg Kate Lose Loro prendono Kate Non lose So where Allora lui installocca per il jungle Io installoccherei per il top Non è un personaggio che utilizzo molto Vado mid? No, non c'ho voglia Sori Loro prendono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, va che bello, simpatico ora. Allora, maastric. Rimuovi. Listo, attenti bloccati. Aggiungi. Maastric. Te, avevo sbagliato il nome. Oh, va va va. Cos'è che? No, che bello è Graves. Ah, ma gliel'avevano lasciata la sigaretta. Avevo sentito che gliela vogliono togliere, poverino. Teoricamente mi dovrebbero aver cambiato anche Singed. Aspetta, 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 aspetta. Cosa ho visto? Trasciando le mie rune. Allora, un secondo cari... Tranquillo. Fai tutto tu. Ah, è l'unica persona brutta, siamo io e Brown. Le Blanc figlie dei corvi. Io dovrebbe andare bene a lei. Non mi ricordo se l'ho già detto. Però se pensate che mi sia passato tutto quanto, no, c'ho ancora la tosse. E finché mi tengo sta sciarpa mi va bene. Infatti sto registrando con la sciarpa in casa, vabbè, a posto. E la parte ancora più bella è che ogni tanto mi manca il respiro per il mucco. Mannaccia. Però vabbè. Finché così che si sente va tutto bene. A massimo io risucchio l'anima tramite il mio naso. Vabbè, quello è un altro conto. Un tizio umido. 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 Rocket Player. Ma tanto per sapere perché se sponso le abitazioni così a caso. Questo c'ha la Marche di Ercefione, quest'altro c'ha delle cuffie. Questo fa le Mega Guild. Questo doveva essere un ragazzo arrabbiato e invece un Angie Boy, non lo so. Ah, Smaug qua, non mi ricordo che cos'era, l'ho già sentito. Questo la costo, vabbè, no, non costa nulla, grazie. Dissolence. Wow, 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 che gaspio. Vabbè, dai. Appena partita la partita. Ritorno. A dopo. Ok, riaccoci qua. To shake or no, to shake. Allora, partiamo con questo, questo, questo. Questo. Arrivo. E il top parte da qua. Nella 5 contro 5 non sono buonissimo con Singed. Cioè, neanche la 3v3, però vabbè. Ti ho fatto una partita spettacolo così a caso o ci sta? Ah no, ti potevo andare. Perché sta stata da blu? Che problemi c'è questo? Ho mescolato. Allora, chi è che aveva detto che era gold? Orianna. È quasi ora. Allora. Ok, c'entrano gli altri personaggi, ho sbagliato. Premo il tasto, vabbè. Poi ci chiediamo a che problemi c'ha la gente. Ok, no. Andiamo, buon vecchio Singed. Anche se di nuovo non c'è di vecchio, non c'è di nuovo. Ok, ora, c'è di nuovo. Ok, allora. No, ok, ok. Como ha detto? Ok. 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 2 biter 2 biter Grazie a tutti. 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 Perché? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché? Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. è morto. Grazie a tutti. Gemma! Demolico! Gio 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 Gio! Il nostro corso gratuito è www.mescolare.it 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 e www.mescolare.it 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 Grazie a tutti. 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 Okay. Okay. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Yeah. Grazie a tutti. No. Dovra. 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 Grazie. Dai. Cacchio di dano. Però una volta che sono gasato. No, mi finisco questo e mi faccio la salata. Ah, c'è la pochina con un bocchino delle magie. No. 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 Ciao. No. 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 Dai, danno che fa... Sì, c'è un po' di più. Nice. Oh, yeah. ben erkekti avolo Grazie a tutti. 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 Ci sono tutti i problemi del mondo. No. Grazie a tutti. Gigi. Quindi... Quindi...